Un grande lavoro anche qui tecnico, finanziario, di bilancio, amministrativo, istituzionale e politico. Siamo davvero molto soddisfatti, eri sera tardi in giunta abbiamo approvato il rendiconto, un risultato importante che conferma la correttezza amministrativa del Comune di Napoli, il grande sforzo che stiamo facendo per far quadrare i conti, emerge la sofferenza di una città appesantita da un debito storico ed ingiusto, ormai divenuto inaccettabile, che comprime i diritti di questa città. Davvero ormai tutti riconoscono che le sforbiciate che sono state fatte alle autonomie locali, e in particolare ad alcune città negli ultimi anni stanno bloccando il Paese, lo sviluppo, gli investimenti, l'uguaglianza e la giustizia sociale. Napoli resiste e l'abbiamo dimostrato anche con questa approvazione del rendiconto in giusto, adesso attendiamo il Consiglio Comunale, ma non possiamo più pensare di limitarci alla resistenza. C'è bisogno di conquistare i nostri diritti e pretenderli da chi ha il dovere di soddisfare questi diritti, Parlamento e Governo. Quindi da questo punto di vista soddisfazione di aver superato questi due grandi ostacoli e al lavoro per la conquista dei diritti dei napoletani e della nostra città.